Problem solving visuale, una promessa mantenuta. Problem solving sembra una cosa banale perché cosa ci vuole a risolvere un problema? E me, sciaguratamente invece ci impuntiamo in alcune fasi perché anche qui ci vuole metodo e disciplina. Ad esempio la fase più difficile per quanto possa sembrare impossibile è quella della definizione del problema. Se non sappiamo definire il problema, il più delle volte ci mettiamo già dentro il colpevole, la soluzione, la causa e andiamo fuori strada. Allora come sia possibile risolvere in maniera corretta, direi quasi scientifiche, i problemi è quello che vedo con Francesco dopo la sigla. Porta anche tu la tua impresa al successo. Consigli, metodo e disciplina per diventare imprenditori di successo. Con Paolo Pugni e Francesco Smorgoni. Francesco, problem solving visuale, settimana scorsa ci abbiate buttato lì questa roba qua, non ho dormito tutta la settimana, mi sono sognato problem solving, forse era questo. Ho questo problema da risolvere, visualizzamelo. Sì, allora perché è visuale? Perché poi lo vedremo nei vari step che possiamo utilizzare per applicare questa tecnica. Ci sono alcune fasi nelle quali dobbiamo davvero visualizzare, immaginare, definire anche con la nostra capacità di rappresentare con immagini le situazioni il problema. Allora, problem solving. Una pletora di tecniche, una pletora di attività per impattare problemi grandi, piccoli, complessi o meno. Noi vogliamo entrare nel dettaglio di alcune fasi che possono essere utili per affrontare un certo tipo di problemi. E devo fare una sottolineatura, grassetto, a quello che hai detto e ricordarci che la prima fase di qualsiasi attività di problem solving deve partire dall'identificare il problema. Perché, citavi tu, ci possiamo catapultare in chissà che cosa trovando immediatamente, lì siamo tutti bravissimi, io sono un campione, il colpevole, magari senza aver identificato davvero qual è il problema. Quindi, partiamo dal primo aspetto di una qualsiasi tecnica di problem solving. Identifichiamo il problema con precisione e oggettività. Lo so che l'oggettività è il sogno di tutti, ma dobbiamo provare a strarci e a osservare il problema con l'oggettività, perché altrimenti portiamo immediatamente, inconsciamente, la nostra soluzione. Quindi mi stai dicendo che c'è un metodo anche nel problem solving? Per bacco! Ci sono delle tappe da seguire? Ci sono delle tappe da seguire? La prima ce l'hai detto, ma ci sono delle tappe altre? Sì, 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 ci sono delle tappe da seguire senza volere affrontare tutto con una checklist. Noi ci abbiamo provato a utilizzare questa tecnica. Da un lato semplifica l'analisi del problema e la ricerca della soluzione, dall'altro la standardizza, io adoro questa logica della standardizzazione, della protocollatura, del processo, ma soprattutto nell'ambito problema o problem solving, avere uno standard, avere un processo, permette di provare a leggere la realtà del problema come realtà del problema e non come manifestazione soggettiva delle mie interpretazioni. Guarda, non so se capita anche a te, io di fronte a un problema per prima cosa, se non respiro dieci volte, do una brevissima lettura della situazione, ho trovato la soluzione, come dicevi tu, il colpevole, e di solito poi il globo terracchio è partecipe di questa sfortuna. Non funziona, non funziona. Se siamo bravi a astrarci, a essere oggettivi, possiamo cominciare a fare le cose con cura, le cose intendo dire la soluzione, a trovare la soluzione. Proviamo a seguire qualche passo. Tappa numero uno, l'abbiamo detta forte e chiara, identificare il problema, poterlo descrivere in maniera oggettiva, in maniera tale da non già segnalare delle possibili strade risolutive, ma da concentrarci su capire il problema. Esatto. Poi? Poi cominciamo con una cosa quasi controintuitiva. Non valutiamo le cause passate del problema, ma solo il problema come si manifesta adesso, oggi. Evitiamo pregiudizi in fin dei conti. Esatto. E comunque, se il problema si è già manifestato, non torniamo al passato. Fermiamoci. C'erano delle cause nel problema? Benissimo, l'abbiamo già risolto. Punto a capo. Via, nel bagaglio delle esperienze, ma questo è un nuovo problema. Niente cause passate. Analizzo il problema nella sua manifestazione oggi. Non è quella di ieri. Lo stesso problema si può manifestare in modo diverso. Non guardiamo al passato. Il secondo step è del nostro percorso verso la soluzione. E poi, di controintuitivo in controintuitivo, controintuitivo per me è come algebra e... Ci sono alcune parole che non riuscirò mai a dire. Comunque, di controintuitivo in controintuitivo. Abbiamo detto, analizza la situazione ad oggi, analizza le soluzioni che fino ad oggi non hanno funzionato. Ok? Perché non sono soluzioni in fin da fine. Esatto. Problema. Lascia stare le vecchie manifestazioni. Analizza, prendi in considerazione le strade sbagliate. Perché siamo tutti umani, abbiamo già percorso delle strade. Se siamo stati poco furbi, come succede spesso a me, lo citavo prima, io sono già partito con la soluzione. Giusto? Ferma. Fermiamoci. Analizziamo le strade che non vanno bene. Anche perché controintuitivamente cosa potrei dedurre da questo? Che abbiamo parlato, se vi ricordate tempo fa, dei metodi come la Lean, Six Sigma, eccetera, eccetera, che non sono andato realmente alla radice del problema. Ho tagliato i rami esterni e però questi continuano a buttare fuori. Quindi le cause che avevo preso in considerazione, le soluzioni che non hanno funzionato o hanno funzionato solo per poco tempo, sono dei palliativi da un certo punto di vista. Io sono intervenuto sui sintomi senza andare a capire qual era l'origine. Quindi continuare a fare così è farsi del male, vuol dire che non funziona. Devo andare più in profondità, più alla radice. Ancora più controintuitivo. Adesso a questo punto valutiamo le soluzioni che potrebbero fare peggiorare la situazione. È strano come percorso, come atteggiamento, eppure è molto analitico. Perché se ci pensi, l'abbiamo identificato, abbiamo messo in parte e non valutato le cause passate e identificato il problema per come si manifesta oggi. Abbiamo identificato le soluzioni che non hanno funzionato. Adesso identifichiamo le soluzioni ipotetiche che potrebbero far peggiorare il problema. Cioè delle soluzioni che hanno effetti collaterali talmente devastanti da essere peggiori. Come dire, in città c'è troppo smog, non facciamo più circolare nessun tipo di automobile. È una soluzione al problema. Ma il macello che si crea è spaventoso. Sarebbe un disastro. Oppure obbligo alla fruizione di un certo tipo di mezzi pubblici che però sono obsoleti e che per il solo muoversi in città provocano un inquinamento di altissimo peso, di altissima gravità. Quindi valutiamo tutte le soluzioni e vediamo quelle che farebbero peggiorare il problema. Se ci pensi, questa logica è molto analitica e permette magari a un gruppo di persone che devono affrontare il problema di guardarsi negli occhi e di cogliere tutte le spaccettature perché è coinvolgente questo percorso. È più facile trovare le soluzioni che non hanno mai funzionato oppure quelle che sarebbero un disastro. Inconsciamente stiamo selezionando quelle buone. Quelle buone. Ok, però qui adesso ti gioco il jolly perché fino adesso abbiamo un po' ciurlato nel manico come si diceva una volta. Ma il visual in tutto questo? Eccoci! Ecco, vedi, manco farlo apposta. Adesso proviamo a immaginare, a visualizzare la scena ideale, il problema risolto senza andare troppo sulla soluzione. Vediamo com'è, immaginiamoci, figuriamoci, disegniamo la scena con il problema a posto. Ho trovato la soluzione, ne parliamo dopo. Voglio vedere la situazione una volta sistemata. Immaginala, hai un problema con... Adesso parlavamo del trasporto urbano, parliamo di qualsiasi altro ambito. Bene, qual è la situazione ideale? Auto poco inquinanti, mezzi pubblici aggiornati, non inquinanti, metropolitani in orario e indicazioni che permettano di fruire dei mezzi pubblici in tempo e con app, eccetera. Non volevo dare una ricetta, non è la ricetta per il buon traffico. Però, bene, vediamola, visualizziamola. Questo è il punto che ci permette di fare il passo successivo. Quindi abbiamo scartato le cose che non funzionano e ci siamo posti nella logica della scena ideale. A questo punto dobbiamo rompere gli indugi, provare un po' a sfruttare l'effetto valanga. E quindi, un po' come per tutte le volte nelle quali abbiamo parlato di efficienza incrementale, facciamo un passo. Uno, abbiamo scartato tutte le cose che non funzionerebbero, abbiamo scartato le soluzioni del passato perché la manifestazione è diversa del nostro problema. Adesso identifichiamo delle soluzioni. il primo passo è sufficiente e facciamo questo passo. Perché compiere il primo passo, aggiornare il motore dei mezzi pubblici, piuttosto che incentivare in qualche misura un traffico euro 6, 7, 8, 9, 10 invece che quello euro 2 e avanti, questo primo passo molto spesso scatena un effetto valanga. Perché il primo passo è quello che poi in qualche misura riesce a spingere anche il resto. E qui mi calo una citazione famosa, bellissima, bellissima descrizione che dice il primo passo non ti porta a dove vuoi arrivare ma ti porta fuori dalla situazione del problema che stai vivendo. Quindi il primo passo, se non altro, ti ha portato fuori da quel problema lì. Non sarà dove vuoi arrivare ma è già andare fuori. Quindi questo che stai dicendo, l'effetto valanga è questo. Infatti, sei già uscito. Intanto la situazione, il mood, il flusso è cambiato. Il problema è alle spalle, sto iniziando a risolverlo. Gli attori in gioco, le parti in gioco hanno un atteggiamento diverso. E quindi si può cominciare a pensare alla soluzione. Quindi l'abbiamo immaginata questa benedetta soluzione, l'abbiamo visualizzata, abbiamo fatto tutto la pulizia delle potenziali cause del problema, delle soluzioni sbagliate. A questo punto cominciamo a muoverci e ancora una volta, ultimo passo, torniamo alla logica visuale e torniamo alla logica dell'alpinista. Mi sono mosso, sono uscito dal problema, sto cominciando a ragionare di soluzione. Quindi devo arrivare su quella cima. Ero seduto al rifugio preoccupandomi di quanto fosse difficile, ho messo lo zanno in spalla e mi avvicino all'inizio della via da percorrere. A questo punto, visual, comunque immagino, faccio l'alpinista. Ne abbiamo già parlato. Parto dalla fine e torno indietro. Intendo dire che nell'elaborare la soluzione, come l'alpinista non sale una vetta verso una vetta partendo dalla base, ma partendo dalla base sale perché ha disegnato dalla cima a scendere la sua via, facciamo la stessa cosa. Ho immaginato di fronte a me la soluzione, faccio un passo indietro verso una scena che potrebbe essere non ideale ma accettabile. valuto quali sono le attività che devo fare, poi scendo di uno step, quali attività devo fare, un passo alla volta indietro, molto anche dal punto di vista immaginativo, e arrivo a quel benedetto primo passo che mi ha fatto uscire dal problema. Quindi immaginati la soluzione, idealizza la soluzione, disegnala, io uso sempre la logica della scena ideale perché mi piace moltissimo, e poi una volta uscito con il primo passo, con il buttarsi nella mischia, un passo a ritroso dopo l'altro, prendi la strada per la soluzione del problema. Che questo è un metodo, questa è disciplina nell'applicare un metodo in maniera rigorosa per arrivare a una soluzione. Quindi fondamentalmente stiamo dicendo che anche qui va bene la creatività, la creatività sarà nella capacità di visualizzare, nella capacità di tratteggiare questo percorso a ritroso dalla vetta, qui la nostra creatività viene sicuramente giocata. Parlo di creatività perché l'italiano poi sulla creatività ci ha campato, ci ha campato, gli piace, ci piace, diciamo così, ci piace essere creativi, ma dentro una disciplina rigorosa, che è quella di applicare un metodo come questo, che fondamentalmente dice per andare all'osso, parte dalla descrizione del problema, cerca di identificare delle cause, cerca di identificare delle soluzioni, che sono quelle appunto che percorro a ritroso, applica queste benedette soluzioni. La semplicità del bene. Infatti, infatti, la semplicità del bene. Te ne parlo per esperienza diretta, noi abbiamo dovuto ottimizzare un servizio post vendita e in passato affrontavamo il problema con la creatività, provando delle strade, questa non va bene, provavamo un'altra strada e spendevamo risorse, tempo, fiducia dei clienti in tentativi. Sai, la prima volta lo puoi spiegare il tentativo, la seconda, insomma, diventa difficile, la terza non si può più farlo. Ecco, invece questa logica ci ha permesso di identificare il problema pulito, preciso. Tutto quello che avevamo fatto in precedenza l'abbiamo accantonato. Ci siamo posti la domanda cosa potremmo fare per fare diventare la situazione peggio, peggiore, pessima. Bene, in parte. Qual è la situazione ideale? Precisa, perfetta. Qual è il flusso del valore per il cliente? Ne abbiamo parlato. Benissimo, è quello. Questa è la scena ideale. Un passo alla volta indietro. Piccolo ma preciso. Ecco, tra l'altro, il problema si è risolto da sé. Sottolineo questo perché è una tecnica, la tiriamo fuori dal tema del problem solving che può servire anche peraltro. È una tecnica molto, a me piace molto, molto curiosa, molto utilizzata che è quella del sempre peggio, quindi vedere l'aggravante. Cioè, di fronte a una situazione, cosa potremmo fare per peggiorarla? A me capita a volte di ragionare sulle tematiche della vendita oppure, visto che abbiamo parlato anche in puntate precedenti della necessità di essere insieme come azienda, un caso classico è quello della collaborazione, no? Perché dice, benissimo, abbiamo un problema di collaborazione tra colleghi, in un'azienda ci sono degli ostacoli come capita di frequente, beh, cosa possiamo fare per peggiorarla? E faccio elencare tutta una serie di cose, viene fuori non dare informazioni, dare informazioni sbagliate, non dialogare, non partecipare alle unioni, arrivare in ritardo, questo genere. E poi faccio sempre una domanda tragica in questo caso, poi la vediamo. Cosa stiamo già facendo di tutto questo? Perché a volte non ci rendiamo conto ma quelle robe lì che abbiamo messo quasi scherzando, perché no, ma non parlo con i colleghi, gli dico delle cose sbagliate, poi no, lo faccio veramente, non magari con la malizia quello scritto lì, ma lo faccio veramente. Ed è un passo importante, proprio come dicevi tu, per andare a ricercare delle soluzioni che peggiorano, perché poi la tecnica della doppia inversione ci dice ma qual è il contrario di questo? Questa è una tecnica che lavora sul brainstorming perché dice che la mente tende a lavorare più facilmente in negativo che in positivo e ci viene più facile poi fare il contrario. Allora, cosa vuol dire che io do informazioni sbagliate ai miei colleghi? Vuol dire che devo darglie sempre corrette, controllarle prima, tempestive, studiare con loro un modo per potergli dare l'informazione giusta e via dicendo. Quindi, è una tecnica che serve anche in altri contesti e che è veramente molto efficace come ci hai spiegato tu. Sì, tra l'altro, intanto citavi, prendiamo nota, brainstorming e riunioni. Brainstorming e riunioni. Prossime puntate, brainstorming e riunioni, non presto perché dobbiamo fare un brainstorming prima, ci troviamo in una riunione per fare brainstorming. Questa accezione, questa logica della trova cosa non funziona, cosa non funzionerebbe, cosa peggiorerebbe, è coinvolgente, il suo segreto è quello. Il fatto che... Ti diverti. Sì, bravissimo, è coinvolgente, divertente, sai, è un gioco molto più facile identificare, ma per via dell'animo umano, come dicevi tu, è molto più facile identificare le cose che peggiorerebbero. È divertente, ci si scherza, poi arriva la fase tragica del cosa stiamo facendo di tutto ciò, però quello ormai si è avviato, è scattato l'effetto valanga, ma la parte divertente è quella che permette di tirar fuori la vera essenza del problema e di quello che potrebbe aggravarlo. Per fortuna questa parte è coinvolgente, quindi si riesce con relativa facilità a far nascere, a far emergere, chiedo scusa, tutti gli elementi peggiorativi. Poi con la doppia negazione un passo oltre si riesce a risolvere. A questo punto mettiamo i voti sul canale, perché così li mandiamo sul canale Telegram, brainstorming, riunioni, di cosa volete che parliamo prima perché parleremo di questi argomenti qui. Da proposito del canale, come dicevamo qualche monota fa, basta offrirci spritz perché oramai siamo completamente ubriachi e sfatti, non se ne è proprio fegato spappolato, poi come si fa ad andare avanti in questo modo. Chiudo, rilanciando appunto il canale Telegram, ci teniamo molto, ci fa molto piacere perché c'è un sacco di materiale veramente importante, telegram.me slash imprenditori di successo, venite a sottoscrivere il canale. Avete da guadagnarci, siamo completamente disinteressati da questo punto di vista, lo facciamo per voi, vi diamo valore, vi risolviamo i problemi, cosa volete di più? Solo contenuti, solo utilità. Perfetto. E se volete poi insultarci a parte, oltre che offrirci uno spritz, potete usare sempre Telegram, Francesco Smorgoni o Paolo Pugni, oppure gli indirizzi mail paolo.pugni e chiocciola.pugni.malago.it Francesco.smorgoni chiocciola.exe.net tutto in lettere con la promessa, salvo volgarità, di pubblicare anche gli insulti sul canale Telegram. Tutti i dissensi fino a un limite di educazione ci sono. Quindi volentieri. Provate, provate per credere, così no, non provate. Non provate a insultarci. Se proprio non potete farne a meno terremo conto di questo, ma in caso siamo disposti anche a questo perché noi siamo proprio... Vabbè, lasciamo perdere. Ok, va bene così. Allora, appuntamento la settimana prossima. Grazie per l'attenzione. Da Paolo Pugni e Francesco Smorgoni un arrivederci con Imprenditori di Successo. A presto! Imprenditori di Successo non finisce qui. Tante notizie, spunti e materiale da scaricare nel canale Telegram Imprenditori di Successo. Iscriviti subito! Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.